Voglio vedere una bici tipo degli anni 30, quella di Coppi, Vartali, adattata all'era moderna. Ho messo delle ruote in carbonio con un telaio di tanti anni fa, poi ho creato un stile un po' più fighetto, un po' più stiloso perché anche l'occhio vuole la sua parte. Le geometrie non sono adatte per fare i passi e le pendenze che abbiamo messo nel percorso, ma la voglia e la forza di volontà mi porteranno su in alto. Poi avrò uno stereo che monterò tra poco perché la musica è doppia, tant'è che l'hanno esclusa dalle Olimpiadi, metterò una bella cassa, ascolterò musica italiana, poi metterò un'asta con il portatelefono perché li sarò connesso sempre 8-10 ore al giorno, potete vedere gli sforzi che facciamo, la gente che segregerà, e che dire, delle ruote da 25, molto strette, avrò delle scarpette con degli attacchi, anche quelle vintage, il caschetto sempre presente, bandierine portafortuna sempre con me, e poi nelle valigie ci metterò panino, presaola, e mangio molto ragazzi, vi devo confessare che farò fuori 20.000 calorie al giorno e ne brucerò 25.000.